Oggi all'insegna davvero della solidarietà. Iniziamo da Pescara dove alcuni calciatori del Delfino hanno visitato stamattina il reparto di neonatologia dell'ospedale per portare la loro testimonianza alle famiglie dei bimbi nati prematuri. Nel pomeriggio l'allenamento per preparare lo scontro diretto di venerdì sera contro il Perugia. Ma su questa prima parte di giornata per quel che riguarda il Pescara vedo pronto in diretta dallo Stadio Adriatico Cornacchi il nostro Paolo Durante. Dunque a te la linea Paolo. Grazie per la linea dallo studio. Dimenticare Ascoli e cominciare già a pensare, a concentrarsi sulla sfida interna contro il Perugia che si giocherà proprio qui allo Stadio Adriatico Cornacchia, la casa del Pescara dove i biancazzurri hanno raccolto tanti punti e dove in pratica in questo finale di campionato la formazione di Pilon giocherà tre volte su cinque. E proprio qui chissà potrebbe essere la chiave per cercare di raccogliere più punti possibile in ottica playoff. Dall'altra parte però c'è la squadra di Nesta, il Perugia. Formazione strana dal rendimento al contrario. Il Grifone infatti dall'inizio dell'anno su cinque trasferte ne ha vinte quattro perdendo soltanto a Crotone l'ultima. Tra l'altro in occasione dell'andata il Perugia superò in casa due a uno proprio il Pescara grazie alle due reti di due ex biancazzurri, Gionberg e Verre. Per il resto oggi pomeriggio ci sarà la ripresa, il primo vero allenamento di questa settimana del Pescara. Vedremo chi sarà a disposizione, probabilmente tutti a disposizione del tecnico Pilon. L'allenamento si farà a Città Sant'Angelo. Mentre in tarda mattinata alcuni giocatori del Pescara si sono recati presso l'ospedale Santo Spirito per portare la loro testimonianza ai bambini che nascono prematuri. Infatti hanno in pratica incontrato alcuni rappresentanti di un'associazione che si chiama proprio l'abbraccio dei prematuri. E noi abbiamo realizzato un servizio che mandiamo in onda. Una mattinata che verrà ricordata a lungo dai genitori dei bambini, dai piccoli ma anche dai calciatori che portano il loro sorriso e le uova di Pasqua nel reparto di neonatologia. A proposito, i fondi raccolti dalla vendita verranno utilizzati dall'associazione per l'acquisto di presidi medici necessari al reparto. Nel nostro ruolo sicuramente rivestiamo anche un'importanza sull'aspetto sociale ed eventi come questo ci danno l'opportunità di avvicinarci a pericolari. Persone meno fortunate di noi e regalar loro un sorriso specialmente in queste ricorrenze come quella pasquale. Simone si guarda sempre avanti, archiviata la sconfitta di Ascoli, c'è adesso questo anticipo importante perché è una squadra, il Perugia, che come il Pescara sta lottando per lo stesso obiettivo. Giocate in casa, spesso e volentieri avete fatto molto bene in casa, quindi volete continuare così? Decisamente sì, il ruolino di marcia in casa ci dà delle certezze in più, è inutile negare che fuori casa abbiamo mostrato qualche difficoltà in più. Venerdì sera arriva una squadra guerrida come quella del Perugia, uno scontro diretto per i play-off, cercheremo di fare il meglio per cercare di battere il Perugia e posizionarci nella miglior posizione possibile. Marco Perrotta si sofferma invece sul rapporto e sulla forza dei tifosi biancazzurri. I tifosi ci hanno sempre comunque sostenuto e dato una mano anche nei momenti difficili, abbiamo dimostrato che anche poi dopo le sconfitte siamo venuti fuori, quindi è una bella cosa, spero che ci aiuteranno da qui fino alla fine perché comunque siamo una squadra che può dirla sua anche nei play-off, quindi bisogna sostenerci e dare il massimo sia a noi che a loro. Chiusura con Luisa Di Nicola, presidente dell'associazione. Un bimbo o una bimba nati prematuri, di cosa hanno bisogno? Innanzitutto di tanto amore, la vicinanza dei genitori è la cosa fondamentale e poi man mano si vedono anche crescendo le varie situazioni e difficoltà, bisogni, locopedia, psicomotricità, insomma proprio il contatto per recuperare il tempo e quello mancato che hanno mancato prima.